Le immagini sono uno strumento potente, hanno il potere di cambiare la percezione che abbiamo delle cose e, se usate nel modo sbagliato, possono avere conseguenze devastanti. Faccio la fotografa ed immagini ne so qualcosina. Ho iniziato la mia carriera fotografica nella fotografia di moda. Dopo circa tre anni, vivevo a New York all'epoca. Un giorno, mentre mi guardavo allo specchio, mi sono sentita pensare, vorrei tanto potermi photoshopare la faccia. E lì ho capito che c'era un problema. Vedete, oggi siamo costantemente bombardati da immagini. Se si vive in una città come Londra, Parigi, New York, Milano, solo uscendo di casa siamo esposti a migliaia di immagini, per non parlare di quelle che poi vediamo sui social. E se queste immagini ritraggono solo donne e uomini perfetti, inevitabilmente, subconsciamente, iniziamo a sentirci inadeguati. Io queste immagini perfette le creavo e so cosa ci sta dietro. Ma una persona normale non ne ha idea. Non sanno che per creare una di queste immagini serve una modella che ha tratti fisici che appartengono a meno del 2% della popolazione e solitamente ha tra i 14 e i 19 anni. Non sanno che la ragazza arriva sul set, sta due ore in hair and makeup. C'è un team di 4-5 persone che sistema ogni singolo dettaglio e poi tutta la parte di post-produzione. E alla fine della giornata la ragazza nella foto non assomiglia più alla ragazza nella foto, ma noi guardiamo la ragazza nella foto pensando perché non le assomiglio. Quando sfogliamo una rivista di moda, questo è il loop che scatta nella testa di una donna. Donna perfetta, donna perfetta, io non sono perfetta, sono brutta, faccio schifo, non sono abbastanza. È un processo lineare, quando entriamo in questo loop la nostra autostima ci va sotto i piedi, quando la nostra autostima è bassa, non riusciamo a realizzarci, perché non crediamo più nelle nostre capacità. Io, che so benissimo cosa ci sta dietro queste immagini, ne rimango influenzata, quindi pensate l'effetto che può avere su una ragazzina adolescente nella fase più delicata del suo sviluppo. Quello che ancora meno persone sanno è che questo meccanismo è creato ad hoc dall'industria della moda, della bellezza, della chirurgia estetica, per farci star male, per farci sentire insicuri, così da farci comprare più prodotti, con la promessa di farci diventare più belli. Una volta capite queste dinamiche, con la consapevolezza che il mio lavoro contribuiva a creare quegli standard di bellezza irreali e irraggiungibili che facevano star male le donne, ho avuto una crisi di coscienza e ho deciso di cambiare rotta lasciandomi il mondo della moda alle spalle. Nel ottobre 2015 ho iniziato un progetto personale, Quest for Beauty. Ho iniziato a viaggiare in solitaria per intervistare e fotografare donne di tutti i giorni, per chiedere a loro cos'era la bellezza. Sono stata in Etiopia, Marocco, Giappone, Tanzania, Vietnam, Hong Kong e molti molti altri posti. E guarda caso, quando chiedevo cos'era la bellezza, le donne mi rispondevano sempre con risposte che non avevo niente a che fare con l'aspetto fisico. In poco tempo sono passata dalla fotografia di moda a quella di viaggio e ho iniziato ad usare Instagram. Creavo delle foto fiabesche che facevano sognare un po'. Instagram è diventato parte integrante del mio lavoro, ho sviluppato un buon seguito sui social e sono diventata un influencer. Ma col tempo ho notato che le stesse dinamiche che mi avevano fatto scappare dal mondo della moda, adesso si stavano innescando anche su Instagram. Solo che qui, invece di parlare di standard di bellezza irreali, parliamo di standard di vita irreali. Oggi sui social ci sono tantissimi content creator, più comunemente chiamati influencer, che, come a volte faccio io, postano foto patinate che mostrano vite da sogno. Quando apriamo Instagram siamo bombardati da immagini di gente seduta a bordo piscina con colazioni sfarsiosissime che poi non vengono mangiate. Gente in accappatoio bianco in hotel lussuosi, gente sempre dall'aspetto impeccabile, sempre vestita alla moda, sempre in viaggio in un posto stupendo. Ma quella non è vita vera. Queste foto non rappresentano momenti della nostra vita. Noi la nostra vita la fermiamo per creare questi momenti. Ci sono delle immagini sul mio Instagram che se una persona apre e vede tutto questo, immagina «Oh, questa ragazza ha una vita stupenda, è sempre in vacanza ai tropici». In realtà le foto ingannano perché tutte queste foto sono state scattate nello stesso giorno, con diversi cambi d'abito, nello stesso resort. Non ero lì in vacanza, ero lì appositamente per creare queste immagini per il resort. Non stavo facendo una vacanza, stavo lavorando. Vedete, è molto facile falsificare il proprio stile di vita sui social. Io ho fatto parte del problema per parecchio tempo, ma quando mi sono resa conto dell'effetto che le mie immagini potevano avere sulla gente, ho avuto la crisi di coscienza numero due. Non mi sentivo più bene a fare quello che stavo facendo. Ho raccolto tutto il coraggio che avevo e ho deciso di dire la verità, di essere onesta. Ho iniziato a spiegare a chi mi seguiva che le mie foto erano costruzioni e non rappresentavano la mia vita minimamente, il che mi ha portato una buona dose di criticismo, parecchi haters, ma il mio seguito si è raddoppiato e ho ricevuto migliaia di messaggi di persone che mi ringraziavano per essere stata onesta, per avergli fatto vedere le cose in un modo diverso. Il problema è che oggi la maggior parte degli influencer o content creator, chiamateli come volete, che producono questo stesso tipo di foto, le spacciano per vita vera, dicono oh mi sono svegliato così, ma la realtà dietro la foto è ben diversa. E l'utente ignaro si ritrova a emulare tutta questa perfezione, perché si trova sotto pressione e posta immagini sempre più artificiali. Sui social ormai postiamo dei ritagli della nostra vita selezionati con cura, ritagli che rappresentano solo il meglio del meglio. E questo innesta il solito meccanismo di cui vi ho parlato prima. Vita perfetta, vita perfetta, la mia vita non è perfetta, io non sono perfetto, faccio schifo, non sono abbastanza. E goodbye, autostima, hello depressione. Abbiamo creato un mondo dove la falsità è costantemente venduta come vita vera, distorcendo la percezione collettiva che abbiamo della realtà e facendo dei danni enormi alle nostre menti e alla nostra autostima, senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Pensate al fatto che oggi i nuovi telefoni hanno già incorporato nella telecamera il filtro che ci liscia la pelle. È terrificante, è gravissimo. Tutte queste manie di perfezione ci stanno facendo dimenticare cosa vuol dire davvero essere umani. Siamo ormai costantemente sotto pressione, pressione di essere perfetti, belli, seguiti, connessi, di successo e felici. Ma la perfezione non esiste e è nemica della felicità. Ora che il mondo è a portata di click tutti vogliamo apparire, tutti vogliamo essere visti, ascoltati, validati, anche chi non ha niente da dire o da far vedere. Vi ricordate chi eravate prima dei social? Come passavate il vostro tempo? Quando non c'era da preoccuparsi di numeri di likes e di followers? Cosa condividevate con gli altri? E come? E perché? Dieci anni dopo l'introduzione dei social ci ritroviamo ad affrontare un picco di problemi di salute mentale e la dipendenza dai nostri device è diventata un problema reale. I risultati di diverse indagini dimostrano che gli effetti collaterali che i social stanno causando sulle nostre menti sono tanti e apparentemente Instagram è la piattaforma peggiore soprattutto per i giovani e Instagram è fatta di immagini, immagini di moda, di viaggio, di lifestyle, di fitness, di cibo, tutti bellissimi, tutti felicissimi, tutto fighissimo. Ma secondo molti studi queste immagini influenzano negativamente il sonno, l'immagine del corpo, l'autostima, scatenano sentimenti di inadeguatezza, FOMO, fear of missing out o paura di essere tagliati fuori, ansia e depressione che nei casi più estremi ma esistenti può portare al suicidio. I teenager sono ovviamente più a rischio ma la cosa influenza anche noi. Morale della favola dopo dieci anni siamo tutti meno felici, vogliamo apparire sempre di più e siamo sempre più dipendenti dai social. Guarda caso come l'industria della moda ci fa sentire inadeguati per farci comprare più prodotti. I social sono disegnati appositamente per farci diventare social addicted, dipendenti. Pensate alle notifiche rosse, quanto vi dà fastidio lasciarle lì, non aprire quel messaggio, non cliccare su quella notifica, ci ruga dentro no? Ogni mi piace è una scarica di dopamina, una dose di gratificazione istantanea che ci fa stare bene lì per lì. Ma è tutto studiato apposta per farci stare online e cliccare di più perché ogni click genera profitto. E oggi tutto si basa sul profitto, siamo sempre più ossessionati dai soldi, dall'accumulazione di beni materiali. Tutto questo ci distrae facendoci dimenticare quello che conta davvero, chi siamo, la nostra interiorità. La vita non è fatta solo di business e marketing, la società moderna ci spinge verso quella direzione e valorizza sempre di più gli aspetti peggiori dell'uomo, egoismo, superficialità, narcisismo. È una società egotistica, disconnessa, ossessionata dall'immagine e dipendente dalle dosi di dopamina rilasciate dai cuori e pollici alzati che ormai fanno parte integrante della nostra vita, sempre più digitale e disumanizzata. Qui mi rivolgo soprattutto alla mia generazione millennial, ma anche ai più giovani e magari anche a chi è più grande di me. Siamo sempre più connessi, ma sempre più disconnessi da noi stessi e dalle persone a cui vogliamo bene. Usciamo a cena con gli amici e stiamo tutto il tempo al telefono, il tuo bambino piange, gli dai in mano un tablet per distrarlo. I social hanno cambiato il modo in cui comunichiamo e le relazioni umane. Vi ricordate quando per sapere come stava un amico bisognava chiamarlo o andare a trovarlo? Ma oggi apri Facebook o Instagram, vedi una foto, metti un mi piace e la conversazione non avviene più. Non ci chiamiamo più. Comunichiamo tramite WhatsApp, Messenger, ci scambiamo tweets, commenti, mi piace, ma siamo sempre meno capaci di parlarci. Come vi sentite quando un vostro cliente ignora un'email o la persona che state frequentando non risponde al vostro messaggio per giorni? Quelle dannate spunte blu fanno male, innescano quella voce che ti dice non sono abbastanza. Ormai, invece di affrontare le nostre emozioni, ci confrontiamo e di confrontarci in discussioni e prenderci le nostre responsabilità. Ignoriamo il messaggio, ci nascondiamo dietro lo schermo, isolandoci sempre di più, diventando sempre più soli al di là di esso, scrollando più a lungo per riempire il vuoto della nostra solitudine ma riempiendoci sempre di più la testa di cose che ci fanno star male e ci fanno aspirare a idee irraggiungibili. Ok, vi ho depressi abbastanza, però per fortuna i social non sono solo male, non portano solo cose brutte. Grazie ai social oggi possiamo raggiungere cose che fino a qualche anno fa erano completamente impensabili, possiamo rimanere in contatto con persone dall'altra parte del mondo. Non sono i social il problema, è il modo in cui li usiamo che fa la differenza. Quindi, come curarsi da questo malessere moderno con la verità, prendendo consapevolezza. Non credete a tutto quello che vedete, immagini costruite photoshopate, influencer con numeri di followers pompati e popolarità inflazionata, fake news. La realtà è ormai troppo facile da manipolare. Sviluppate un senso critico e chiedetevi sempre cosa è vero e cosa no. Ascoltiamoci. Non è facile, ma bisogna imparare a guardarsi dentro, essere onesti con se stessi. Chiedetevi sempre in che valore credo, cosa ho da offrire. Questa cosa mi fa stare bene e se la risposta è no, bisogna eliminarla. Se ci sentiamo male scorrendo sui nostri feed, smettiamo di seguire le persone che postano cose che ci fanno star male. Pubblicità a parte, abbiamo ancora il potere di decidere di che contenuti nutrirci. Decondizioniamo il pensiero. Quello che pensiamo è influenzato dal mondo esterno, dalle nostre famiglie, dai nostri amici, dai social, dai media. Per trovare la propria voce, per trovare la nostra voce, dobbiamo spegnere tutte le altre. Per capire chi siamo, cosa vogliamo veramente, cosa ci interessa davvero, dobbiamo sbattercene dal giudizio altrui. Passiamo meno tempo online a guardare cosa fanno gli altri e iniziamo a pensare con la nostra testa. Solo così possiamo vivere la nostra verità e condividere cose che ci rappresentano veramente. Connettiamoci alle persone con umanità. Bisogna dare il giusto valore alle persone che conosciamo offline, sono loro che contano veramente, e sempre comportarsi con rispetto online. Scrivere quel commento di cattiveria gratuita o ignorare quel messaggio. Sono gesti codardi, facili e presi alla leggera, ma il dolore che possono provocare e le insicurezze che possono scaturire nell'altra persona possono essere enormi. Bisogna sempre ricordarsi che anche se abbiamo uno schermo di mezzo, dall'altra parte dello schermo c'è un umano, una persona fatta di sentimenti, emozioni e paure. Mostriamoci per chi siamo veramente. Dovremmo essere noi stessi, sia online che offline, sempre mostrando le nostre imperfezioni e le nostre vulnerabilità, mostrando i nostri successi, ma soprattutto i nostri fallimenti. Sono quelli che ci rendono umani. Non può andare sempre tutto bene. Nell'ultimo anno ho capito che quel che mi faceva star bene davvero non erano le foto patinate di vite da sogno o gli hotel di lusso, ma era la connessione con la gente che incontravo nei miei viaggi. Era l'umanità che scorreva tra di noi, il poter raccontare le loro storie. Mi sono chiesta, ripetutamente allo sfinimento, in che valore credo, cosa ho da offrire, cosa mi fa star bene. E adesso lavoro con ONG, principalmente, su progetti che mi fanno star bene, mi fanno sentire utile e sono in linea con i miei valori. E dopo anni di crisi mistiche e strade sbagliate, penso forse di essere su quella giusta. E sto finalmente vivendo la mia verità, offline e online. L'onestà e la verità sono la chiave per liberarsi dalla prigione digitale di falsità che ci siamo costruiti. E oggi più che mai il mondo ha un disperato bisogno di verità. Prendiamo quella strada perché l'altra porta solo verso la disumanizzazione. Ascoltatevi, siate voi stessi, dite la verità e mostratevi sempre per quello che siete veramente umani, stupendamente e imperfettamente umani. Grazie.